Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro ARK che vi parla e finalmente la verità ci sta colpendo in faccia come un pugno. Se avrete tutte quante le informazioni per la stagione 5 di Vanguard, se vi ricordate avevo già fatto un video poco tempo fa, secondo un leak di Alarix, che diceva che i giocatori di zombie di Cold War sarebbero stati molto contenti di altri contenuti in arrivo in questa stagione 5. Beh, Trek non ne ha parlato, Call of Duty non ne ha parlato, e anche scavando nei file di gioco con un recente aggiornamento di circa 5 giga, si sono stati trovati soltanto due cose, ergo due bundle. Vedendo anche da altri leaker come Zepd, che in questo momento sta spammando tantissime informazioni e forse farò più video a riguardo, comunque lui stesso aveva detto tempo fa che secondo lui non ci sarebbero stati altri contenuti per Cold War in questa specie di anno 2 in cui stanno aggiungendo giusto qualche arma, qualche mappa del multi e quel super easter egg per zombie come ricompense. Lui stesso aveva detto qualche giorno fa che l'anno 2 era letteralmente concluso, soltanto altri bundle in arrivo. Confermato poi da ColdSploits, che ha letteralmente scavato nel codice del gioco e ha trovato soltanto due bundle in tutti i 5 giga di aggiornamento, nient'altro di nuovo. Ha continuato infatti Zepd a rispondere a tantissimi altri utenti che appunto gli stavano chiedendo ma veramente tutto quanto è finito, altri leaker ci hanno detto invece che ci sarebbero stati altri contenuti, lui stesso continua a ribadire, no, i contenuti sono finiti e settimane che lo dico, tutti i nuovi contenuti tra virgolette che arrivano sono bundle. E anche appunto tornando ai vecchi tweet di Alix, io stesso avevo detto che secondo me se aggiungono giusto qualche arma, qualche mappa del multi giocatore, qualche bundle qua e là, non sono dei veri e propri contenuti. Io pensavo già a qualcosa in più di carnificina, qualcuno aveva anche speculato altri contenuti di epidemia addirittura, e in quei casi quelli sono letteralmente dei contenuti di zombie, altrimenti del bundle da acquistare sono tutt'altro che contenuti, almeno a mio parere. E sembra che la situazione sia la stessa anche per Vanguard. Per quanto ci siano tantissimi contenuti tagliati, farò un altro video a parte a riguardo perché è letteralmente lunghissimo come argomento, anche per Vanguard si parlava di una specie di anno 2, ma anche in questo caso tutto quanto è totalmente andato, soltanto The Archon in arrivo in stagione 5, poi tutto quanto fermo e concluso, penso sia per zombie che per il multi. Questo viene anche letteralmente riconfermato da Treyarch, che dice che con questo capitolo finale della storia etero-oscuro, questo prequel di Vanguard, loro tornano nelle shadows, nelle ombre, per continuare a lavorare al futuro, quindi tutto quanto il team di zombie è concentrato per i titoli e i contenuti successivi, molto probabilmente COD 2024. E anche in tutti quanti i blog personali di Treyarch non si accenna da nessuna parte altri contenuti per Cold War, per Vanguard, ma soltanto lo zombie futuro. Quindi a tutti gli effetti, confermando, non ci sarà nient'altro per ancora molto ma molto tempo, e aspettate il nostro COD successivo, ovviamente non ci danno spoiler, anche se sarebbero stati molto graditi. È una situazione che comunque secondo me era molto molto prevedibile. Già una discussione per un anno due di Vanguard era molto molto strana, per quanto potesse in qualche modo cercare di compensare un anno uno veramente vuotissimo, ma si torna al solito discorso della distribuzione delle risorse, per cui se un team, anche minuscolo, sta lavorando a Vanguard, quando invece potrebbe lavorare sempre con Treyarch, al loro titolo futuro, è sempre questione del si cerca di migliorare il titolo attuale, che comunque ha avuto tanti problemi e ci serve molto lavoro, così vada tutto quanto a quel paese e si passa al titolo successivo, che è un pochino il metodo invece di Activision, appunto con Vanguard tante cose sono andate male, e sta letteralmente correndo ai ripari, cancellando addirittura la stagione finale di Vanguard, perché la quinta è l'ultima e non ci sarà una sesta, e si passa direttamente a MW2 e Warzone 2, praticamente cancellando e eliminando quello che è stato Vanguard. Sono sicuro che appena uscirà MW2, Vanguard cadrà totalmente nel dimenticatoio, sia per Activision, quindi gli sviluppatori, ma sia anche per la community. Non contiamo neanche la community di zombie che hanno affondato Vanguard dal giorno 1 e per moltissimi motivi correttamente, ma anche per Cold War c'erano tante aspettative e in quel caso un anno 2 avrebbe portato veramente tantissime cose. Invece i contenuti sono arrivati qua su Vanguard e aspettiamo The Archon come mappa conclusiva, che speriamo sia quantomeno decente, fatta bene, per quanto sia come sempre un remake di Tramai Ricta, e veramente un remake di una mappa zombie presente nel gioco stesso, è una cosa veramente mai vista prima. Possiamo dire meglio di niente perché è un'altra mappa around, ma in questi casi siamo molto molto alle strette. Quindi ragazzi, arrivata la stagione 5 di Vanguard ci fermeremo totalmente sul fronte zombie, e a parte quello che è aggiuntivo della community, quindi custom map di Black Ops 3, speculazione, leak e rumor per i prossimi titoli, informazioni ufficiali e contenuti ufficiali saranno scarsissimi per i prossimi probabilmente 18 mesi o simili, quando invece avremo informazioni che sia un leak o cose più concrete per il prossimo code di Trerac nel 2024, ma fino ad allora probabilmente tutto quanto sarà totalmente a secco, per cui stringiamo i denti, sarà un periodo molto molto doloroso e lungo. I ragazzi come sempre vogliono sapere le vostre opinioni, che si aspettavano una situazione del genere con pochissimi contenuti o addirittura zero in seguito alla stagione 5, ma anche tutto quanto totalmente annullato tra virgolette per Cold War, quindi i prossimi contenuti sono soltanto dei bundle aggiuntivi che non sono nulla di interessante, e anche Vanguard ovviamente verrà tra virgolette abbandonato, comunque il suo supporto verrà concluso alla fine di questa stagione 5. Il video quindi si conclude qui, spero come sempre che il riservato vi sia stato utile, tutti quanti i post sono qui sotto in descrizione, trovate anche il link per tutti quanti i miei social, tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord, ci saranno come sempre a un prossimo video. Un abbraccio. Alla.